Alfano, provincia di Salerno, seconda tappa del carnevale intercomunale 2019, sono in compagnia del gruppo di Alfano che rappresentano i puffi, quindi vediamo le novità di questa seconda tappa. Il mondo danciano voglio guardare. Il mondo danciano è molto positivo soprattutto per il fatto del tempo perché abbiamo avuto una bella giornata che all'inizio è iniziata con una più girellina leggera, poi se è uscito questo solo è bellissimo. Abbiamo fatto una sfilata che comunque è molto lunga qua a Alfano e ci siamo divertiti tanto. È vero, una grande partecipazione sia dei grandi che dei piccoli. Sì, 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 è stato molto partecipato quest'anno, si vede che stiamo crescendo anno per anno, quindi abbiamo questa possibilità, ci stiamo sviluppando. Nel progetto stiamo andando avanti con questo carnevale intercomunale, una cosa che come ho sempre detto è iniziata per gioco tra amici e poi sta diventando una cosa molto grande. È stata una tappa sicuramente freddolosa però devo dire la verità siamo soddisfatti e felici. Soddisfatti e felici non tanto e non solo per la manifestazione in sé perché innanzitutto dalle manifestazioni traspare un lavoro enorme di tutti questi ragazzi dei paesi che si sono accomunati insieme e traspare una passione e un amore per le comunità di appartenenza. Felici proprio perché con questo tipo di manifestazioni noi non coltiviamo solo l'idea di fare la manifestazione ma l'idea di creare una comunità, una comunità non solo solidale ma anche competitiva con il golfo di Policastro, con il cilento alto e che faccia capire a tutti che il cilento interno c'è, che è vivo, che è capace, che è volenteroso e che può emergere. Complimenti alla Prologo di Alfano che in questa tappa ha organizzato la tappa voglio dire. Complimenti alla Presidente e per la Presidente a tutti 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 i partecipanti della Prologo di Alfano così come delle altre Prologo. Siamo felici di ospitare Antonio Comito e anche perché Antonio Comito ci ha portato dei risultati eccellenti ad Alfano quest'anno. La verità che... Siamo veramente bravo, è bravo e stiamo felici anche perché questa fusione giova al territorio. Mi chiami. William. Di dove sei William? Fuori di Gento. No, è sempre bello stare insieme, l'aggregazione, il diversirsi insieme è sempre importante. Venite tutti, c'è un bel divertimento, c'è tanta gente, venite, vi divertirete. Noto che migliora anno per anno, quest'anno ci sono carri veramente stupendi. I carri sono molto belli, vedo molta allegria. E revisione a cura di QTSS per l'único Alvare. The path to the square. The path to the Kim Toysili.